insultando un posto e fare news facili allora io ti dico una cosa e ho un pensiero diretto su sta cosa chi mi segue qui in chat probabilmente qualcuno se lo ricorderà lo sapete qual è stato il primo video che mi fece diventare famoso il primo in assoluto era la prima volta che criticava un ristorante era peggiore versus miglior pizzeria di Milano non so se qualcuno se lo ricorda in chat io feci sto video che da un giorno all'altro ma chi ti segue no dai cosa? no niente è famosa dai è famosa ho letto un commento in chat ma chi ti segue abbiamo una chat goliardica non ti arrabbia Giovanni non ti arrabbia che ti voglio bene lo sai comunque io quel video mi ricordo passai da fare 80-100 mila views a fare un milione in un giorno greve non ti arrabbi che ti segue